La DDA di Bologna ha emanato un decreto di sequestro di beni nei confronti dei fratelli Antonio e Cesare Muto. Sono stati i carabinieri del ROS del Comando Provinciale di Modena a dare esecuzione al sequestro di beni per circa 9 milioni di euro. Antonio Muto era stato già condannato in primo grado nel complesso procedimento giudiziario denominato Emilia per i reati di associazione mafiosa. Secondo gli inquirenti i fratelli Muto appartengono al circuito economico-relazionale della Drangheta Emiliana e dalla cosca Grande Arachi di Cutro. I fratelli Muto altresì sono imprenditori nel settore della logistica e dei trasporti. L'operazione che ha portato al sequestro trova la sua radice in quella che fu definita appunto operazione Grimilde ed è stata condotta nelle province di Reggio Emilia, Parma e Crotone ed ha riguardato beni immobili e mobili per un valore stimato in 9 milioni di euro ed intestati proprio ai due fratelli Muto.